E' preso? Si Ma non è che la puoi prendere tu una ruota di sboccia? No, no Almeno questa perché Su il battetto Ma poi anche quella? Eh, è il posto di sboccia, se no Vai Eh, questo è finito alla storia a me Track trial con la cavasappe Lappe di Busacchi qui per noi Non sono rosei, i camion salgono sulle pietre Anche le cavasappe sul giornacento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti